Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore, doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Gioca con un pallone lungo, può colpire, si è arrivato! Ha donato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Ha mantenuto i nervi sacchi, ha insaccato il pallone vitando il portiere. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato il suo movimento e poi ha portato la rete. Passaggio intercettato. Qui c'è il chiacattivo! La situazione con una giocata in avanti. Brozovic Palla a Lukaku Cerca di sfruttare gli spazi laterali Non può sbagliare! C'è il cartillo! E c'è il gol del Vinter! Prima rete per l'internazionale Niente di più facile, è stato invitato al banchetto e non ha rifiutato! Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile!